Ci troviamo sempre a Manhattan con i suoi grattacieli, ma signori miei permettetevi di mostrarvi una cosa che a me ha davvero emozionato ed è stata la prima cosa che ho visto la prima volta quando sono arrivato a New York. Alle mie spalle abbiamo la One World Trade Center, anche nota ufficialmente come Freedom Tower, la Torre della Libertà. È il quinto grattacielo più alto del mondo ed è il principale del No World Trade Center di New York. Costruito nella zona dove vi erano le Torri Gemelle, che purtroppo sono state distrutte da un attentato terroristico. Il grattacielo è alto 1776 pieni, 500 e passametra, adesso non ricordo nello specifico. Il numero 1776 non è un numero casuale, è stato scelto perché è l'anno dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Il grattacielo è alto 102 piani, i primi 20 piani sono riservati ad uffici di sicurezza e al centunesimo piano vi è l'osservatorio da cui si può ammirare tutta Manhattan. Il grattacielo è alto 1776 pieni, 50 piani sono riservati ad uffici di sicurezza. Il grattacielo è alto 1776 pieni, 50 piani sono riservati ad uffici di sicurezza. Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti.